Ciao a tutti broccoloni e bentornati sul mio canale didattico Diego ti spiego nella sezione della matematica. In questo video affronteremo l'ultima operazione che riguarda i polinomi, ovvero la divisione. In particolare in questa lezione vedremo la divisione di un polinomio per un monomio. Per affrontare quindi la lezione dovrai saper fare la divisione tra monomi e soprattutto sapere quando è che due monomi sono divisibili tra di loro. Se non ti sei ancora iscritto al canale guarda che ti vengo a cercare però mi puoi anche seguire su instagram. Vediamo se ti capisci qualcosa va? Cominciamo con questa nuova lezione che dedicheremo all'ultima delle operazioni che dovremo fare con i polinomi. In questa video lezione vedremo la divisione di un polinomio per un monomio. Se avete capito bene come funziona la moltiplicazione di un monomio per un polinomio vedrete che la divisione sarà molto simile. Nella prossima lezione invece vedremo come effettuare la divisione di un polinomio per un polinomio. Lo vedremo in due modi differenti. Per affrontare questa video lezione dobbiamo innanzitutto capire se e quando è possibile effettuare la divisione di un polinomio per un monomio. Per capire questo concetto vi rimando al mio video sulla divisione tra monomi. Posso infatti eseguire la divisione di un polinomio per un monomio solo se tutti i termini del polinomio sono divisibili per il mio monomio. Per capire questo concetto facciamo subito un esempio. Abbiamo a che fare con un polinomio formato da tre monomi, quindi un trinomio, i cui termini sono 2a alla terza b, 8ab alla seconda, o almeno davanti, e più 4ab. Il nostro monomio invece è 2ab. Affinché il polinomio sia divisibile per il monomio, ciascuno dei termini che compongono il nostro polinomio deve essere divisibile per il monomio. Se anche uno di essi non è divisibile per quel monomio, allora non posso effettuare la divisione. E come faccio a capire se ciascuno di quei monomi è divisibile per il monomio 2ab è semplicemente devo andare a guardare il grado delle lettere che compongono la parte letterale. Vi ricordo infatti che due monomi sono divisibili se il monomio di sinistra ha esponenti della parte letterale che sono uguali o più grandi degli esponenti della parte letterale dell'altro monomio. In questo caso, per esempio, vedete il 5 è più grande del 3 e il 3 è più grande del 2. Quindi effettivamente posso effettuare questa divisione. E quanto farà questa divisione? Farà ovviamente 2x alla seconda y. Quindi in questo caso la divisione è per l'appunto possibile. Non mi interessa assolutamente niente della parte numerica perché quella sarà sempre divisibile anche se una delle due presenta una frazione o tutte e due presentano una frazione. Prendiamo adesso la stessa coppia di monomi e facciamo una piccola modifica. Mettiamo come esponente del monomio di destra per la x è 6. Ora vedete questo 6 è sicuramente più grande dell'esponente che ho di qua e quindi questa divisione non può essere fatta perché dividendo x alla quinta per x alla sesta ottengo sì x ma lo ottengo al denominatore cioè otterrei x alla meno 1. Quello quindi non è un monomio ma diventa una frazione algebrica. Questa divisione non è quindi possibile. Prendiamo la stessa coppia di monomi e facciamo un'altra ulteriore modifica che è l'aggiunta di questa lettera z per quanto riguarda la parte letterale del secondo monomio. Cosa cambia in questo caso? Che il monomio di sinistra non presenta la lettera z quindi ancora una volta questa divisione non è possibile perché se io andassi a fare quella divisione la z si troverebbe al denominatore. Quindi anche in questo caso sarà in presenza di quella che si chiama frazione algebrica quindi non potrei effettuare la divisione. Aperta e chiusa questa parentesi ragazzi la divisione polinomio per monomio diventa veramente facile perché non devo fare nient'altro che applicare lo stesso criterio a tutte quante le combinazioni che posso fare per quel polinomio diviso quel monomio. Quindi il primo diviso il primo, il secondo diviso il primo e il terzo diviso il primo. Per ciascuno di essi mi devo chiedere se effettivamente posso fare la divisione. Se non lo posso fare per tutte e tre allora il polinomio non è divisibile per quel monomio. Cosa otterrò quindi in questo caso? 2 alla terza b è sicuramente divisibile per 2 a b e ottengo infatti a alla seconda perché b e b si semplificano e 2 anche. Poi ottengo meno 4b perché la a scompare e b alla seconda diviso b diventa b e per finire ottengo più 2. 4 di su 2 fa 2, a b diviso b rimane 1. Questa quantità qui è per l'appunto il risultato della mia divisione. Prendiamo adesso in esame questa divisione qui. Abbiamo ancora un polinomio formato da tre termini, quindi un trinomio, ma ragazzi il polinomio può essere formato da n termini, mentre dall'altra parte abbiamo il monomio meno 3x alla seconda. Dobbiamo quindi fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, cioè dobbiamo capire se ciascuno di questi termini è divisibile per il termine meno 3x alla seconda. Il primo termine lo è perché vedete x alla quarta ha un esponente più grande di x alla seconda, quindi il grado di quel monomio è sicuramente più grande del grado del secondo. Per quanto riguarda il secondo termine vale lo stesso ragionamento, abbiamo x alla terza, il grado è 3 che è sicuramente più grande del grado 2. Per quanto riguarda il terzo invece è lì ci dobbiamo fermare perché quello non ha neanche la parte letterale, quindi non è divisibile per il termine 3x alla seconda. Il grado infatti di quel monomio rispetto alla lettera è 0 perché la lettera non c'è, che è sicuramente un grado più piccolo del grado 2 del monomio per cui devo fare la divisione. Quindi quella divisione semplicemente non è possibile. E che cosa devo fare? Assolutamente niente ragazzi, quell'espressione rimane così com'è. Per concludere facciamo una bellissima divisione con le frazioni, che so che quando vedete le frazioni ve vorreste cavare gli occhi, ma io ve le faccio fare lo stesso perché le dovete sapere. Applichiamo lo stesso identico criterio che abbiamo visto fino adesso, quindi cerchiamo di capire innanzitutto se posso fare la divisione. Guardiamo la parte letterale del primo termine ed effettivamente sia la x che la y hanno grado più alto rispetto al grado della x e della y del monomio divisore. Per quanto riguarda il secondo monomio, sia la x che la y hanno lo stesso grado, quindi la divisione sarà ancora possibile. Per quanto riguarda il terzo monomio, hanno tutte e due grado superiore e quindi effettivamente posso fare la divisione di quel polinomio per quel monomio. Poniamo attenzione adesso a come fare la divisione. La parte difficile in questo caso è semplicemente avere a che fare con le frazioni. Quello che devo fare però è fare semplicemente la parte numerica del primo monomio diviso la parte numerica del secondo monomio. Quando faccio questa divisione, quindi, che cosa devo fare? Meno un mezzo diviso un mezzo. Non ci sto neanche a pensare perché ovviamente quella roba farà meno uno. Quindi ottengo meno uno che non si scrive. Per quanto riguarda la parte letterale, ottengo xy, che è il risultato di x alla quarta diviso x alla terza e y alla seconda diviso y. Per quanto riguarda la seconda divisione, cosa devo fare? Devo fare un quarto diviso un mezzo. Vi ricordo che il diviso si risolve trasformandolo in un per e facendo il reciproco del termine a destra. Quindi questo semplicemente è un quarto per due, che non mi dà due ottavi, ma mi dà due quarti, ovvero un mezzo. Il mio risultato sarà quindi più un mezzo e basta perché x alla terza y diviso x alla terza y fa uno. Mi raccomando, non mi scrivete zero. E per finire devo fare la divisione del terzo termine, che è meno uno diviso un mezzo. Meno uno diviso un mezzo ovviamente mi fa meno due, perché giro un mezzo che diventa due, quindi meno due. Come risultato ottengo quindi meno due x y alla quarta. Bene ragazzi, con questa lezione abbiamo concluso. La divisione di un polinomio per un monomio non è una divisione così interessante come quella di un polinomio per un polinomio, che vedremo nel prossimo video. E vi anticipo già che ci saranno due metodi per effettuare questa divisione. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima. Grazie, alla prossima lezione da Diego ti spiego.